permesso ecco la star grande ciao si tutto bene siamo qui a preparare la base dai si sta curando si è davvero un pochino di pazienza però ci siamo siamo qua a 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